Dimenticare mai, ricordare sempre. Parole espresse dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini nell'Assemblea anconetana che oggi ha celebrato il giorno della memoria rimarcando gli indelebili orrori della Shoah. In aula sono intervenuti tra gli altri il presidente della comunità ebraica di Ancone, Emanuela Russi, e il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ugo Filisetti. Memoria ma anche promozione di iniziative storico-culturali, come la proposta del consigliere Giacomo Rossi approvata all'unanimità che intende legare in un unico filo conduttore l'itinerario ebraico delle Marche. In occasione della giornata della memoria abbiamo anche discusso la mia mozione che chiede alla Giunta di istituire l'itinerario ebraico marchigiano. Una mozione che è stata sottoscritta da tutti i capigruppi in consiglio ed è stata votata all'unanimità. Questa mozione chiede appunto l'istituzione di questo itinerario che vuol mettere insieme e raccogliere in un itinerario turistico tutti quei siti di interesse storico, artistico e culturale del mondo ebraico sparsi nella nostra regione. Per esempio la Sinagoga di Pesaro, di Urbino, di Senigallia, il quartiere ebraico di Apecchio, di Monterubiano, di Camerino. Ci sono veramente tante testimonianze e questo itinerario può attrarre tutto il flusso turistico interessato a questo tipo di storie, a questo tipo di beni culturali. Tra l'altro questa vuole essere anche una proposta del ricordo perché con questo itinerario si andranno anche a scoprire le tante storie di persecuzioni che hanno subito gli ebrei marchigiani nel corso dei secoli. Quindi oltre che una proposta concreta vuole essere anche una proposta finalizzata alla memoria.